In corso d'opera sarà modificato il progetto di restyling del piazzale della stazione ferroviaria dell'Aquila. Sono state ritrovate infatti nel corso dei lavori alcune opere di fondazione dell'ex magazzino merci, manufatto che si fa risalire ai primi del novecento. A febbraio del 2022 durante i lavori sono state rinvenute le fondazioni del vecchio magazzino che fu demolito nel 2000. È un segno dell'antica stazione distrutta durante il secondo conflitto mondiale. La conservazione è incompatibile secondo la sovrintendenza con il progetto attuale e così si cambia. Slittano così di un po' i tempi dell'intervento di comune RFI, gli spazi per parcheggio e terminal bus, quindi andranno ridisegnati per evitare interferenze con questi ritrovamenti, così come ha chiesto la sovrintendenza che vuole salvaguardare le strutture di fondazione del manufatto. Intanto abbiamo dai giorni del ritrovamento abbiamo subito convocato la sovrintendenza, abbiamo avvisato di questo rinvenimento. Si tratta di un manufatto dei primi del novecento che la sovrintendenza intende conservare. Non ci sarà uno slittamento lungo perché immediatamente con RFI abbiamo rivisto il progetto. Ci sarà forse qualche stallo in meno per gli autobus, però comunque i lavori vanno avanti e la riqualificazione della stazione sarà un'ulteriore testimonianza della volontà di questa amministrazione di cambiare in meglio il volto della città. L'accordo per la riqualificazione del piazzale risale al 2019 con l'obiettivo di migliorare il volto dell'area e renderlo più accessibile e funzionale. Già degli interventi sono stati fatti come la sistemazione del fabbricato destinato ai pendolari. L'intervento è importante, prevede la riqualificazione del piazzale con parcheggio e terminal per automobili, autobus urbani ed extraurbani, sull'area che è di proprietà delle ferrovie che si trova da ovest della stazione. Sarà fatto anche il piazzale antistante e pedonalizzato, ci saranno stalli per persone con mobilità ridotta, zone per permessi di sosta temporanei, punto per taxi, bici e bike sharing, con ricariche per i mezzi elettrici e anche illuminazione a redi saranno cambiati, un progetto che vale 2 milioni e 200 mila euro.